Ieri abbiamo sentito come l'angelo istruiva i pastorelli sulla necessità di riparare i peccati con cui Dio è offeso, insegnando loro il semplice atto di adorazione, fede, amore e speranza. Con pochissime parole condensato tutto, praticamente tutto, è detto da quei piccinini, quelli piccoli, bambini in realtà, bambini innocenti, quello che l'uomo può essere innocente. Bene, nella terza apparizione, noi avevamo parlato alla prima, saltiamo la seconda perché per questo non interessa e andiamo alla terza apparizione. I bambini vedono che l'angelo ha nelle mano sinistra un calice sul quale è sospeso un'ostia, sospeso. Dall'ostia cadevano alcune gocce di sangue nel calice. Lasciando il calice e l'ostia, sospesi in aria, si prostrò per terra e ripetè per tre volte l'orazione. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tavernacoli della terra e in riparazione degli oltragi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Racconta Lucia Dopo alzato si prese di nuovo in mano il calice e l'ostia e diede a me l'ostia. Quel che c'era nel calice lo diede Davide a Giacinta e a Francesco, dicendo allo stesso tempo «Prendete e bevete nel corpo il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati, riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio». E di nuovo si postrò per terra e ripetè con noi ancora tre volte l'estessa orazione. Santissima Trinità, Padre, Figlio, eccetera, eccetera. Bene, allora è molto ricca questo. Io so che molti di quelli che mi ascoltano in questo momento sono adoratori come sono io. Allora a me piace anche questa preghiera, questo che ha detto l'angelo, l'orazione. dirla così quando sono davanti al Santissimo, dire «Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offrò il preciosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, qui presente e in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione, eccetera». Allora, importantissimo perché tutto ha Fatima esemplare. Ecco perché il Cardinale Sarà, Proversarà, l'attuale prefetto del culto divino, arriva ad affermare che quella scena dell'angelo che dà la Santa Comunione ai più piccoli ci dice come dovremmo comunicare con il corpo il sangue di Gesù Cristo, cioè in ginocchio e in bocca. La preghiera insegnata dall'angelo, che è più attuale che mai, è, ricordiamo, Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preciosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltragi, sacrilegi, indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Beh, perché l'ho ripetuta? Perché questa preghiera di grande ricchezza teologica in ogni parte merita un commento, almeno brevemente. Soprattutto si tratta dell'intima relazione tra il mistero della Santissima Trinità e il mistero della Santissima Eucaristia. Ogni vattezzato, sentite bene, ogni vattezzato partecipa al sacerdosio di Cristo Ricordate, tutti per essere sbattessati siamo sacerdoti, profeti e re. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che essere sacerdote e quella stessa partecipazione vuol dire che può offrire al Dio Trino e Uno il sacrificio di Cristo presente nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia, come insegna la Chiesa, c'è tutto Cristo nel corpo, nel sangue, nell'anima, cioè nella sua umanità e nella sua divinità. E per rendere ancora più evidente questa presenza vera e sacramentale si aggiunge presente in tutti i tabernacoli sulla terra. L'adorazione di Dio si manifesta nella prostrazione dell'angelo e dei bambini prima della presenza del corpo, o davanti meglio, di anzi alla presenza del corpo nella sacra ostia, nel sangue di Cristo, nel calice. Indubbiamente il gesto di adorazione intrapela ai nostri tempi, in cui i fedeli, e purtroppo bisogna dirlo a causa del cattivo insegnamento dei sacerdoti e non dei sacerdoti, distorcono il mistero e non si inginocchiano, o peggio, se vogliono farlo, sono impediti, li impediscono di farlo. E questi sono i tempi in cui l'Eucaristia è stata banalizzata e il santo timore di Dio è andato perduto. E questo è evidente a chi vuole vedere. Bene, la prima cosa che la preghiera rivela è che l'adorazione eucaristica è adorazione trinitaria. E quell'adorazione e quell'offerta di sacrificio sono fatte come un atto di giustizia, in riparazione delle offese commesse contro la santità di Dio. Dio è tutto santo, tre volte santo, santissimo. Allora, questa santità vuol dire Dio è giusto, Dio è giusto, santità, la giustizia di Dio. E questa giustizia esige riparazione. Ma allo stesso tempo viene invocata la misericordia perché si invoca l'intercessione dei sacri cuori di Gesù e di Maria. E perché? Per cosa? Per la conversione dei poveri peccatori, perché Dio vuole che tutti gli uomini si salvino. Allora, da una parte la sua giustizia, la sua totale santità esige la riparazione e dall'altra parte la sua divina misericordia esige l'intercessione per quelli poveri peccatori. In altre parole, l'adorazione e il sacrificio spirituale associato hanno le due dimensioni della riparazione e dell'intercessione. anche, dico, sacrificio spirituale e anche l'eucaristia celebrata, non soltanto adorata, contemplata. La divina giustizia, ripeto, che è un riflesso alla santità di Dio, esige riparazione, mentre la sua divina misericordia richiede intercessione, specialmente per quei poveri peccatori che commettono, appunto, sacchilegi che sono irreverenti o blasfemi. Pensate, anche indifferenze si parla. Allora, l'indifferenza dei fedeli che prendevano la comunione come se fosse un oggetto e adesso con queste regole che vogliono metterci sopra che tutto il mondo è in mano, oh mamma mia, madre mia, beh, non voglio andare su questo versante e non continuare. Bene, allo stesso modo è importante ricordare l'esperienza mistica dell'eucaristia che hanno avuto i bambini e ciò accade il 13 maggio 1917, il primo giorno, il giorno della prima apparizione della Madonna, quando ella aprì le mani e i pastorelli furono visti, avvolti da una luce sopranaturale. Solucia e lei stessa racconta sapevamo in qualche modo che questa luce era Dio e potevamo vederci abbracciati da essa. Per un impulso interno di ringraziamento ci siamo inginocchiati ripetendoci nei nostri cuori «Oh Santissima Trinità, ti adoriamo, mio Dio, mio Dio, ti amo nel Santissimo Sacramento». In questo episodio l'adorazione del Trino, dell'unico Dio nel Santissimo Sacramento è già esplicita, ma è notevole come essendo nella luce di Dio stesso lo Spirito Santo spinga questi bambini ad esclamare quella preghiera di adorazione e manifestazione d'amore nell'Eucaristia. Guardate chi è l'Eucaristia. Non possiamo dire cosa è l'Eucaristia perché non è un oggetto. Guardate chi è l'Eucaristia. Cari amici, per questo è così importante ricordare Fatima, anche per questo, e soprattutto per questo dirò. Maria porta a Fatima, come in ogni luogo delle vere apparitioni, un messaggio di trascendenza, soprattutto un messaggio di speranza perché Dio non ignora l'uomo, l'uomo nei momenti in cui l'uomo vuole sfarazzarsi di Dio, che lo sida, lo offende seriamente, anche in un tempo come il nostro, di grande apostasia. Dio ci copre con la sua misericordia, ci chiama attraverso la Madonna, in modo che torniamo a Lui prima che sia troppo tardi e già c'è buio sulla terra, sul mondo. viene a ricordarci che tutti i messi di salvezza sono nella Chiesa, che Dio è presente in un modo unico, vero e sostanziale nella Santissima Eucaristia. E di nuovo viene a ricordarci in questo confinamento l'importanza dei sacramenti, quando la maggioranza non ce l'hanno. Viene a ricordarci che Dio ci ama e vuole la nostra salvezza, che se il peccato è grande, che se i peccatori persistono testatamente nella loro offesa a Dio, coloro che ascoltano il messaggio portato dal cielo possono, attraverso la riparazione eucaristica, e l'appelo all'intercessione dei sacri cuori ottenere per coloro che per la loro estesa decisione erano destinate alla dannazione eterna possano raggiungere la salvezza. Bene, per soddisfare in cui finiscono veramente la richiesta celeste di Fatima, non dobbiamo solo pregare il rosario ogni giorno, che è quello che si deve fare, ma non soltanto, ma anche approfondire, renderci consapevoli della nostra partecipazione alla messa, al sacrificio eucaristico, così come avere i nostri momenti di adorazione eucaristica, in reparazione per le offese commesse contro Dio, gridare c'è chiamare, chiamare, l'intercessione, perché tutti possiamo intercedere ai sacri cuori per il perdono dei poveri peccatori, davanti al Santissimo. Bene, infine, infatti, ma ci introduce anche alla devozione del cuore immacolato e alla riparazione dei primi cinque sabati, per le offese commesse contro il cuore della madre di Dio, che tanto ama Dio e tanto ama noi. E per questo si deve confessare, meditando, parlo del cinque sabato, cinque sabati di ogni mese, primo, primo, confessando, meditando sui misteri, comunicando, la riparazione, sempre la riparazione eucaristica, vedete, perché? Perché è Gesù Cristo che stiamo offrendo che Lui ripara per noi, perché la nostra riparazione sempre sarà insufficiente. e anche la riparazione delle confezioni riparatrici, delle comunioni che sono, che stanno propriamente lì, la centralità dell'Eucaristia. Carissimi, finiamo, questo si è allungato un po' di più, questo secondo giorno del Tridio. Ave Maria. Ave Maria.